dei rapporti tra Italia e Spagna, lei è eccessivo? Io guardo con interesse quello che sta succedendo in Catalogna, mi pare che l'atteggiamento aggressivo e violento del governo abbia combinato un disastro, nel senso che sarà difficile di recuperare i rapporti tra Catalogna e Madrid. Detto questo guardiamo con interesse quello che succede perché può aprirsi davvero una pagina nuova interessante per l'Europa. Se la Catalogna otterrà come loro vogliono l'indipendenza diventerà una regione d'Europa e questo può cambiare davvero un'Europa che non funziona, un'Europa che dorme, un'Europa che non dà risposte concrete ai territori. Un referendum però totalmente diverso da quello che propone 32, lo spieghiamo perché? Il nostro è un referendum che prevede la possibilità per le regioni, per la regione Lombardia e per il Veneto di avere più competenze, che sono le competenze previste dall'articolo 117 della Costituzione, 23 competenze tra cui quella sull'ambiente, tra cui quella sull'istruzione, sull'innovazione, sull'aiuto alle imprese con le relative risorse. Noi chiediamo almeno la metà del residuo fiscale, cioè 27 miliardi di Euro. Siamo pronti a farlo, abbiamo tutte le capacità per farlo, ma il nostro referendum è nell'ambito della Costituzione italiana, c'è un accordo con il governo italiano, con il Ministero dell'Interno, quindi i problemi che ci sono in Catalogna qui non ci sono. Dentro questo ha una valenza attrettanto importante perché può cambiare il futuro della Lombardia e la vita in meglio dei cittadini lombardi e delle imprese lombardi e delle famiglie. Presidente, a chi dice che c'è un rischio di balcanizzazione come fu con l'AIDS in Jugoslavia? Da un punto di vista politico lei cosa risponde? Rispondo con le parole di Michele Emiliano, il governatore della Puglia, che ha tutto l'interesse a dire quello che pensa davvero e quello che succederà e lui oggi ha detto che non ha una posizione diversa rispetto a quella di Maroni e di Zaia sul referendum. E' giusto la solidarietà, ha detto, ma è anche giusto che chi è il motore abbia le risorse che servono per continuare ad andare più forte. E l'ha detto il governatore della Puglia, sono molto lieto perché spero che questo contribuisca a mettere fine a queste assurde critiche, siete egoisti, volete tenervi i vostri soldi. La maggiori competenza e più risorse è la Lombardia, fa bene all'Italia, fa bene a tutte le regioni, andate a leggere le dichiarazioni di Michele Emiliano, governatore della Puglia. Non toglie ad altre regioni? Il nostro obiettivo non è spendere meno, cioè togliere soldi alle regioni del sud, ma spendere meglio i fondi pubblici, secondo il modello Lombardo, investire, creare ricchezza, creare sviluppo, creare posti di lavoro, questo succederà. Se il referendum, come io mi auguro, andrà bene, cioè se vinceranno i signori. Grazie.